Papa Francesco ha chiuso il suo secondo e ultimo giorno a Lavana, condividendo con 5.000 giovani la pioggia sempre più insistente e una meditazione a braccio, lasciando il discorso preparato. Davanti al centro condolare padre Felix Varela, che forma il laicato secondo gli insegnamenti sociali della Chiesa, il Papa ha rinunciato all'ombrello e ha ascoltato la testimonianza di Leonardo. Il giovane ha detto di sperare in un futuro di profondo cambiamento per Cuba, nel quale l'isola caraibica diventi davvero una casa per tutti i suoi figli. Pensino come pensino e siano dove siano. Il Pontefice ha invitato i giovani cubani a sognare cose grandi, perché se date il meglio di voi stessi ha detto aiutate il mondo ad essere diverso, ha chiesto loro capacità di accogliere e accettare chi la pensa diversamente, guardare ciò che abbiamo in comune piuttosto ciò che ci separa. Questo è lavorare insieme per il bene comune e si chiama amicizia sociale, cercare il bene comune. L'inimicizia sociale distrugge e la più grande di inimicizia alla guerra, fatta da chi non è in grado di sedersi e parlare, di negoziare, di cedere in qualcosa. Infine li ha invitati a una speranza che sa soffrire per realizzare un progetto, sa sacrificarsi per il futuro senza vivere solo il presente. Un cammino non facile che non si può percorrere da solo. Camminata insieme è stato l'ultimo consiglio del Papa, uniti anche se diversi. Questa è la cultura dell'incontro.